Ciao, mi chiamo Pasha e oggi noi facciamo il tour della mia casa. Questo è il mio giardino, molto bello, largo, basato. Intanto vi faccio vedere il mio ufficio, andiamo. Aspetta che vi vado a presidire. Posso poi vedere l'autrice? No, mi spiace. E poi tu sai che qui non può entrare nessuno. Ma solo per cinque minuti? No, mi spiace. Ciao. No, mi spiace. 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 No, ho detto. Tu non puoi entrare in questa casa. No, mi spiace. 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 No, mi spiace.